L'etnos Abbiamo visto come ogni etnos, cioè popolo, comunità, cultura, si rispecchia e sostenga sempre in un determinato etos, cioè la lingua che si parla, i miti che si coltivano e trasmettono, le leggi che indirizzano la vita in comune, gli ideali che si perseguono, i comportamenti che caratterizzano appunto l'etnos. Allo stesso tempo abbiamo visto come ogni specificità culturale porti in sé le tracce di diversi incontri e scambi avuti con l'imprevisto e con le tante differenze con cui ritroviamo a confrontarci nel tempo. Ragione per cui, come abbiamo visto, ogni caratteristica culturale è in realtà una specifica ibridazione culturale. Tutte queste gradazioni dell'identità culturale e dei processi interculturali aiutano a comprendere come sia difficile concepire la cultura come qualcosa di armonicamente compatto e pacifico, ma dimostrano, al contrario, come la cultura sia sempre un campo di tensioni e di negoziazioni attraverso cui si mettono in gioco interessi, timori, eredità, relazioni di potere tra soggetti e gruppi che occupano posizioni sociali diverse e portano con sé ideologie contrastanti. Bisogna allora considerare che non può esistere un'educazione interculturale universalmente valida per tutti i casi. Infatti, ogni volta entrano in gioco questioni diverse, ossia culture diverse, maniere diverse di concepire tali diversità. Ciò che accomune i migliori processi interculturali è la disposizione all'apertura verso ciò che non si conosce è verso l'accettazione della propria parzialità, della propria stessa parzialità, una disposizione che dovrebbe evitare il rischio di pensare in termini di opposizione, di radicalismo e di imposizione delle proprie caratteristiche culturali. Questa è una complessità relazionale che alberga e opera all'interno di ogni comunità, dalla locale all'internazionale, e che pertanto può generare processi interculturali molto diversi tra loro. Un aspetto chiave che infatti molte volte ha perturbato le relazioni tra comunità culturali diverse è quello della sfida per la supremazia politica e economica che soggiace ogni incontro con culture diverse. Quando lo scenario delle relazioni interculturali si prospetta a partire da una concezione gerarchica per il predominio politico e economico, allora i patrimoni culturali passano in secondo piano e vengono addirittura utilizzati come armi ideologiche per giustificare la volontà di supremazia. Si noti bene, questa tendenza a caratterizzare le relazioni in modo asimmetrico non è una prerogativa della contemporaneità. Certo, sappiamo che i progressi civilizzazionali emergono da contesti non bellicosi. sappiamo che il benessere sociale ha poco a che fare con un clima di contrasto e di aggressività. Ad ogni modo, se volessimo cercare un aspetto storicamente emblematico di questa infedice e aggressiva modalità di stabilire le relazioni interculturali su scala internazionale e con ripercussioni ancora evidenti nella nostra storia contemporanea dovremmo cominciare dal colonialismo europeo. Molte disuguaglianze e ingiustizie ancora esistenti in diversi parti del mondo provengono dalla storia di prevaricazioni perpetrate per secoli da parte di quei paesi europei che cercavano di allargare il proprio orizzonte di influenza attraverso la navigazione dei mari e la scoperta di nuove terre sconosciute. È molto educativo leggere questa storia come una storia che dovrebbe insegnare cosa non ripetere più in contesti di incontro e rapporti tra comunità e culture diverse. L'impatto globale del colonialismo europeo si ripercuote nella maniera di forzare le gerarchie e le priorità tra i diversi saperi, tra i valori e le visioni del mondo operando così una simmetria di attributi valoriali tra chi è europeo e chi non è europeo tra chi parla in nome del centro e chi della periferia chi è del nord e chi è del sud, chi è bianco e chi bianco non è affermando una divisione tra chi è uomo e donna tra chi è cristiano e non cristiano tra chi è eterosessuale e chi è queers il modo in cui tanti paesi del continente europeo hanno basato a partire dal XVI secolo il loro rapporto con gli altri popoli e le altre culture del sud del mondo rappresenta una ferita storica nella maniera di concepire la politica dell'identità culturale tanto più per essere stata presentata molte volte come portatrice di valori emancipatori insieme alle accruciate religiose il colonialismo rappresenta l'aspetto più tragico di concepire i rapporti con le diversità l'ettonocentrismo, l'eurocentrismo e ogni tipo di imperialismo contemporaneo culturale, commerciale che sia affondano le loro radici in questa sistematica violenza culturale riproduttrice di disuguaglianze e ingiustizie sociali può sembrare paradossale ma la storia di queste ferite è strettamente legata alle ferite che oggi soffrono molte minoranze culturali che sentono la propria differenza come disprezzata o ignorata in ogni contesto del pianeta esiste una traccia di questo primo processo di globalizzazione che è stato il colonialismo europeo e molti suoi aspetti di ingiustizia come vedremo tra poco sono stati riprodotti anche dai diversi popoli eredi di tale storia sparsa nel globo grazie a tutti